Ciao creatura Io sono Eccati Splendenti e benvenuta, bentornata nel regno di Cosa è? A-S-M-A Su Youtube mi è stato chiesto di fare un decluttering di ombretti come ho risposto alla creatura ok ti faccio il decluttering però non butterò via nulla di tutto ciò perché sarà tipo un fake decluttering adesso che li andiamo tipo a sguacciare e basta perché ho solo questi e non ho intenzione di buttarli ma mi interessa se sono scaduti da 3000 anni non mi interessa creatura dimmi ciò che vuoi non mi interessa non li butterò minimamente perché ho solo questi e non ho nessuna intenzione di acquistarne di nuovi anche se mi dovesse cadere la pelle tanto mi trucco una volta ogni mille anni quindi va bene così sono tutti ombretti che mi sono stati regalati vorrei provare a sguacciarli su un foglio di questo quaderno non so se si può fare se si vede proviamo insieme se non si vede faremo sulla mia pelle ok sul mio braccio iniziamo con questo che è il mio preferito è la mia palette preferita e mi è stato regalato da il ragazzo mannaro si chiamava così una volta adesso non lo so non lo so come si chiama adesso Gianluca comunque che è passato da ragazzo mannaro a sireneta tante creature fantastiche giustamente per il regno di cosa ci sta farò così allora questa è la palette revolution make up revolution london che è galaxy ha dei colori che sono oh my god adoro è forever flawless constellation allora vabbè lo specchio non so cosa rifletta chiedo scusa magari censurerò allora ha dei colori bellissimi che sono tutti abbinabili a qualsiasi cosa perché sono talmente belli che già di cosa stiamo parlando allora proviamo a vedere se si vede qualcosa sulla carta questo è una specie di color ciprio però non so neanche come definirlo un rosa antico però perlato allora io lo vedo non so se in videocamera si veda qualcosa comunque non ho idea se si veda qualcosa perché non so cosa sto inquadrando prima cosa secondo c'è la luce sparata non lo so oh creatura fammi sapere in commento se lo vedremo in fase di editing dirò ma che merda di video ho fatto vabbè poi questo che è Jupiter bello tutti con lo stesso dito quindi sono non lo so cambiamo titolo Spiral bellissimo mamma mia Saturn che è uno dei miei preferiti wow ma è bellissimo è una specie di colore ottaneo però sempre sul perlato adesso io non so come si pronuncia poi c'è Night Sky che è un blu blu notte giustamente Night Sky cosa può essere intanto mi sto pulendo le dita man mano poi Mars che è una specie di color mattone o perlomeno io lo vedo così poi non so tu creatura c'è un pelo di seme questo io l'adoro e l'ho usato un sacco di volte infatti è tipo un po' scavato che è Harp che è una specie di dorato è un dorato però sul rosa oro rosa tipo bellissimo mi ricorda molto l'Egitto poi c'è Universal che è una specie di marrone è tipo un mocano e io l'ho usato per farmi le sopracciglia un po' tutti i volte perché è con le simili ai miei capelli e ai miei peli di sopracciglia poi Neptune che è sempre un blu qui sembra uguale all'altro solo che questo allora l'altro è tipo perlato invece questo è più blu elettrico non perlato tipo come si dice matt anche questo è bellissimo l'avevo utilizzato per truccare Nora e poi non andava più via il trucco perché l'avevo lasciato lì e si era tipo si era tipo macchiata di questo si era impregnato non so nella plastica nel silicone con la quale è fatta Nora e quindi non andava più via l'ho dovuta lasciare al sole per così si è spiadita il sole la plastica si è spiadita e un po' è andato via perché sfregando con qualsiasi prodotto non andava via e quindi ho dovuto escogitare questo piccolo trucchetto diciamo è meraviglioso è questo rosa proprio papo al gamma stupendo ok a me è di solito non piace rosa ma questo è veramente power cioè bellissimo poi c'è cluster che sembra la graffitte di sembra quel misto tra nero e grigio che fa la matita quella per disegnare è un bellissimo effetto tra la tua si chiama cluster mi fa venire in mezzo a molte cose di cui non parlerò poi c'è questo solar solar scusate accenti strani che è proprio color oro puro oro 18 carati no non lo so puro oro anche questo mi fa pensare molto leggero che è come vedi creatura spero che si veda sto cercando di capire se sto inquadrando giusto secondo me non si vede nulla con la luce comunque spero di si è un bellissimo oro proprio perfetto ed è molto diverso dall'altro nonostante siano comunque sul tono dell'oro poi c'è dimension che anche questo è una specie di ciclamino però ha dei riflessi molto particolari molto da galassia molto galaxy è una specie anzi direi che è totalmente non una specie ma è argentato proprio argentato non grigio argentato e voglio farci un make up natalizio lo so che di solito per natale si usa oro rosso così così ma io vorrei fare un make up anche se non è natalissimo ma vorrei farlo argentato e nero secondo me è bellissimo super elegantoso poi c'è un viola cosmic bellissimo poi c'è mercuri che è una specie di cluster però più sul grigio meno sul nero un misto tra un argento scuro un argento quasi andando verso il nero però è un po' prima del nero molto bello poi anche se in realtà non ho ancora usato quel colore mercuri ancora non l'ho usato poi retrograd de non so la pronuncia che è un finaccio e poi c'è asteroid che penso di non aver ancora utilizzato ma si potrebbe abbinare bene accolturato perché è una specie di coloro sabbia e starebbe molto bene mi fa pensare anche questo legito la sabbia no abbinato vicino ci sta non lo so molto bello non so se ci sta bene abbinato dovrei pensarci fammelo sapere nei commenti e questa è la prima paletta che butterò via sicuramente 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 no poi questa paletta mi è stata regalata dalla mia migliore amica che si chiama Elena non so se stia vedendo il video se stavendo il video ciao questa paletta della royal beauty non so sia una marca famosa ce l'ho da mille anni e l'ho usata è ancora una di quelle con i i pennellini che non sono pennellini perché sono fatte con tipo delle spugnette come quelle di una volta che usavo ci sono anche dei trucchi quelli di una volta anche per le pompine per dire ha dei colori molto particolari ho usato tantissimo questo allora questi verdi ho usato questo principalmente che è color ottaneo molto simile a quell'altro però diverso simile ma diverso questi qua verdi non li ho mai usati non sono non sono molto pigmentati bisogna metterci sicuramente una base sull'occhio e poi metterne un sacco perché si veda non sono molto pigmentati però hanno dei bei colori una volta che si insiste ecco questo è il mio preferito infatti penso sia il più pigmentato di tutti non lo so è un po' più morbido degli altri ho usato anche questo bianco che ovviamente qua non si vede è un bianco perlato dava un effetto un tocco di luce però non essendo molto pigmentato ce ne devi buttare tantissimo poi questo è una specie di grigio qua c'è un altro finaccia però appunto non sono molto pigmentati e in più sono un po' spriciolosi non so come si dica pare sembrano tutti lo stesso colore siamo tutto nero cioè vabbè poi c'è questo che ho usato tanto e infatti è un bel blu un bel azzurro anche questo blu perché li ho usati insieme un bel blu notte blu bello scuro blu oltre mare no oltre mare non è oltre mare è blu notte blu notte sì poi c'è un nero glitterato pronuncio il glitter e poi c'è il marroncino che anche questo ho utilizzato a volte per le sopracciglia ma troppo scuro l'altro va molto meglio è più simile al è più simile al colore dei miei capelli e delle mie sopracciglia soprattutto poi se questo video non ti ha soddisfatto creatura facciamo uno swatch proprio sulla pelle mi metterò magari mi inquadro direttamente io così vedo meglio vedo meglio la situazione ok io andandoci provo a fare questo però se non ti soddisfa lo rifaccio va bene senza problemi dimmelo non ti preoccupare poi mi piaceva l'idea di provarlo sul foglio perché l'altra volta quello degli smalti l'ho fatto così e mi è stato appunto richiesto tramite quel video e quindi mi piaceva l'idea che fossero un po' simili poi c'è questo dell'essence che è rimasto sotto a delle cose che mi ero dimenticato di avere infatti non ho minimamente idea di che colori contenga che bei momenti allora create and transform my wonder eye palette ecco dove era era questa ce la cercavo tra l'altro ha un sacco di colori pastello sono molto più autunali che invernali ma forse anche invernali infatti la cercavo quest'autunno non la trovavo accidenti vabbè allora innanzitutto questi sono molto perlati shiny si dice shiny giusto alcuni colori sono pastello però sono matta tipo questo violetta e questo lilla che non è inda è indaco questo io lo vedo color indaco però è un misto tra lilla grigio e un tono di azzurro però lo vedo più si lo vedo tra lilla e il grigio io poi lo so perché io ho una leggera cromia quindi ho scoperto ho fatto la visita e quindi vedo i colori un po' diversi dagli altri però vabbè e questo lo vedo tra il tra il ciclamino però chiaro e lilla però non è lilla questo e non è neanche ciclamino quindi questo non so come si chiama questa è una specie di verde menta pastello e poi c'è questo bianco c'è un bianco qua un po' olografico tendente molto freddo tendente all'azzurro bellissimo un dorato però pastello e un altro olografico questo è un po' più caldo non so se è caldo però ha le sfumature sul si è caldo sull'arangione e rosa quindi non so quale mi piace di più tra freddo e caldo perché sono veramente questo è più da frozen proprio il cartone e questo più da un'altra principessa una principessa un po' più non so più da bella tipo parlano di principesse pensando all'olografia mi vengono in mente le principesse non so per quale motivo vabbè poi qui ci sono due toni diversi di di marrone è un marrone nocciola è un marrone un po' più sicuro poi c'è il nero il blu questo che non so definire il colore è un misto un misto tra blu grigio e non ne ho idea si è blu grigio questo che sulla carta sembra grigio in realtà ha dei riflessi blu poi abbiamo tutte queste tonalità di rosa che non ho mai usato userò un giorno forse che sono matt e un po' perlati io li vedo sullo stile rosa rosa cipria rosa tendente un po' al violetto anzi al vinaccia e poi quel rosa che si utilizza con i pennarelli per fare la pelle delle persone che poi in realtà non è così perché è troppo carico però è quello mi ricorda quello poi questi molto belli particolari sui toni del marrone però brillanti questo tipo è un colorame tipo tipo eh perché è più sul marrone che sullo rosso e questo che è una specie di tra l'arancione e rosa ma non è salmone non lo so spiegare alcuni colori non ho idea del nome che abbiano e poi un altro tipo di color sabbia però più sul rosa tendente sul rosa tendente all'arancione come se fosse un po' un correttore e c'è la versione matte e c'è la versione anche perlata masterclass palette 39 39 poi l'ho detto in italiano 39 shade eyes shadow palette oddio mi è scappata la p beh questo guarda un tributio di colori le ho le ho le utilizzo questo lo utilizzo molto spesso un tempo fa ci facevo anche tipo delle storie su instagram era molto divertente e facevo scegliere una combinazione di colori alle creature che mi seguivano e poi andavo a riprodurne un make up bello mi piacerebbe rifarlo però non ho tempo allora qui abbiamo un bel verde erba chiaro giallo un bel giallo canarino questo verde penso di non averlo mai usato ma perché è così bello wow ma perché non ho mai usato questo perché gli occhi verdi giusto wow non so se si vede qualcosa comunque è un verde foresta perlato cioè ma ma di cosa stiamo parlando tra l'altro è anche un po' cangiante un po' olografico tra il nero e il verde oscuro ma che cavolo è bellissimo perché non l'ho mai usato perché ho gli occhi verdi e di solito metto cose che contrastino con i miei occhi verdi verdi arancioni sono i miei occhi quindi di solito metto roba rossa così mi piace il contrasto o neri vado poi c'è un altro verde erba però più verde erba classica erba del giardino ovviamente creatura anche tu però queste battute so che hai pensato male poi c'è un azzurro varie tonalità di azzurro che qua si possono fare mille sfumature blu blu scuro un po' shiny un po' matt azzurro proprio turchese questo è più sul verde questo è sempre una tonalità del blu poi ci spostiamo alle tonalità del viola viola rosa il rosso perché io questo lo vedo più sul rosso che sul viola o sul rosa viola una specie di ciclamino scuro questo non so dire di che colore è rosa però sicuramente ha un nome forse questo è più sul ciclamino di questo e qua c'è una specie di rosa cipria con la quale ovviamente si può fare il punto luce il punto luce poi qua abbiamo una specie di sfumatura bianco dorato color sabbia arancione marrone marrone scuro un po' di finaccia delle sfumature anche con questo in realtà mi sono fatta un po' di sopracciglia nero nero ci sta un marrone scuro un altro questi sono simili per me non vedo tanta differenza l'unica differenza che vedo è che questo è più sul marrone un po' più scuro di questo però non vedo tanto differenza poi qui abbiamo un'altra specie di viola rosa diverso da tutti questi anche se in realtà sembra questa versione qui però shiny questa matt questa un po' più perlata poi questo è un rosso particolare che ho usato è tra l'arancione e il rosso una specie di rame non ho idea se si stia mettendo qualcosa questo è più rame però questo è proprio ciò che penso che sia rame color rame però anche questo ramato si dice non ho idea questo è proprio rame nella mia testa questo è tipo rame però matt questo è bellissimo è una specie di color salmone però perlato questa è un'altra specie un'altra sfumatura tra il sabbia e il dorato questo è la vita è anche questo olografico olografico tra il bianco e il rosa ma bellissimo cioè molto unicorn poi c'è anche questo dorato che ho usato tanto bello arancione arancione matta arancione perlato un po' più scuro questo è un altro colore sui toni del rame marrone via dicendo più sul marrone perlato perlato un'altra sfumatura di oro e marrone ultimo una palette credo sia cinese questa quindi la uso un po' meno perché macchia tantissimo sarà fatto con cose tipo nucleari penso no qualcosa di molto tossica in più è pochissimo pigmentato quindi devi starli a insistere insistere per far sì che si veda qualcosa sia anche rotta non so come perché non mi è mai caduta però sarà caduta qualcun altro in casa mia tipo il gatto potrebbe essere sì e questa veramente se fosse pigmentata sarebbe bellissima perché ha un botto di sfumature di colori però appunto è è molto tenue tipo questo colore usato tantissimo che cos'è tipo otanio ma dai anche il difetto di questa che non mi piace è che è un sacco polverosa adesso io non so come si dica che quando vedo utilizzarla fa un sacco di polverina che si disperde ovunque e non mi piace questa cosa questa cosa mi non dico che mi crea disagio ma non so non mi piace allora ha praticamente l'arcobaleno anche di più varia dal nero al bianco con centrale il grigio che è l'incontro tra il nero e il bianco uno specie di argento poi ha l'ottanio che è tutto scavato perché l'ho usato si vede di più di tutti fino ad arrivare tra l'ottanio il blu il viola il questo da molto da sirena fino ad andare a verde scuro verde chiaro verde erbo tantissimi viola tantissimi rosa pochi pochi di rossi che non sono neanche rossi perché sono più tendenti all'arancione infatti mi piacerebbe un ombretto rosso ma che sia rosso un bel rosso proprio pomodoro non li si trovano rosso i pomodoro perché io questo non lo vedo rosso pomodoro non lo vedo uguale a questo tendente all'arancione per esempio poi ci sono questi dal sabbia al marrone un po' matto un po' shiny anche qui ci sono gli arancioni ma non c'è un rosso che sia un rosso bello pomodoro qua ci sono dei color verde acqua verde chiaro azzurro tutto così turchese lilla ma non lilla bello come l'altro tanti tanti verdi che tanti sono uguali io li vedo uguali non c'hanno una sua motora diversa che non ho usato tantissimi gialli uguali vabbè spero che questo video ti sia piaciuto ti auguro buonanotte buon relax oh creatura grazie a tutti grazie a tutti